Antonio Bolzonello, che è mio fratello, di fatto, si è visto questo uomo nella sua taverna, di fatto, che lui lascia aperto. E quando poi gli ha chiesto cosa volesse, lui ha cominciato ad aggredirlo e avvicinarsi a lui minacciandolo. Racconta così Gino Bolzonello l'aggressione di ieri mattina all'interno di questa casa di Via Perer a Busta di Montebelluna. Vittima è il fratello Antonio, che si è trovato in casa a Ziz, un marocchino di 36 anni che, dopo aver scontato due anni di carcere, è uno dei tanti che vive di espedienti a Montebelluna. Una vita difficile per questo giovane arrivato in Italia all'età di 16 anni e che nel tempo è entrato in un giro di microcriminalità dal quale non riesce ad uscire. A Ziz, tra l'altro, non è una faccia nuova in questo borgo. Lo conosciamo perché le abbiamo sempre aiutato e Rosa, mia moglie, gli fornisse gli alimenti. Per questo Gino e la moglie Rosa chiedono di non essere ripresi in una forma di pudore per quest'uomo dalla doppia personalità. E lo conosciamo per una persona mite. Il tema è che quando beve diventa strumento aggresso. Ma lui è senza fissa di mora? Senza di mora, sì, sicuramente sì. Alcolismo, dunque, alla base di questa aggressione che, secondo Gino Bolzonello, non poteva essere a scopo di rapina. Ieri è arrivato qua, però non è arrivato per i soldi, lui è arrivato per scappare da qualcosa, da qualcuno. No, ma lui è arrivato perché credo che lui non avesse più un posto dove dormire. Ma Ziz sicuramente stava fuggendo dai carabinieri che l'avevano già notato fuori le righe in un bar vicino e che quando ha cercato di uscire da questi cancelli non ha esitato ad aggredirli. L'ho visto aggredire verbalmente e quasi fisicamente i due carabinieri che si erano così presentati e che lo seguivano dalle 5 del mattino. Ai carabinieri non era stato che rendere inoffensivo l'uomo in stato di agitazione e dopo aver verificato che Antonio Bolzonello non avesse riportato lesioni dall'aggressione hanno condotto in stato d'arresto a Ziz in caserma a Montebelluna. Per la famiglia Bolzonello ma per tutto il borgo di Via Perer un provvedimento che non risolverà la situazione di quest'uomo e i problemi che continuerà a crearsi e a creare. Cosa vi augurate per questo? Vi auguriamo che qualcuno si occupi di lui.